Noi parliamo di questa roba che si chiama Manifesto 30-30-30 che è un sogno quasi utopico ma che nasce da un fatto... Da un concetto che è alla base di tutto il mondo delle start-up, le start-up vengono valutate secondo il modello di cui Gianmarco Carnovale è il massimo guru italiano, secondo il modello del team, della tecnologia e dell'attraction, no? C'è qualche start-up? Ah scusami, mi è sfuggito completamente, diamo se torni indietro... Essendo donna è quasi praticamente invisibile, perché vedere delle donne al potere che si occupano di business è quasi impossibile. Flavia Benedetta Valentini, manager di Enel, si occupa del portafoglio start-up. Ed è qua per gentile concessione, prima di Ciorra che non poteva venire, che poi ha nominato Fabio, che Fabio si è reso conto che l'unico che poteva fare un gesto gentile di far venire una collega ha fatto venire una collega a parlare di start-up. Scusatemi, grazie Carmela che è il mio capo, donna, ok? Allora, team, tecnologia e attraction. Di team c'è stato qui, Augusto Coppola a mezz'ora a parlare, lui è il massimo coach di start-up, siamo tutti dei fighi, abbiamo tutti la maglietta, sappiamo tutti Steve Jobs, sappiamo la pitch, presentation. Ma su questo diciamo che l'ecosistema è messo piuttosto bene. Sulla tecnologia, minchia, cazzo, sono venuti i cinesi apposta per comprarsi le nostre arance, voglio dire, è arrivato il presidente qui a Roma, la tecnologia italiana è imbattibile. Poi Stefano ne sa qualcosa, le nostre traversine, abbiamo messe tutta Italia, no? Le traversine, giusto? Abbastanza. Quello che invece è drammatico è il tema dell'attraction, cioè ci preparano a fare i 100 metri in due secondi, poi vai a parlare con un'azienda e aspetti quanto? 365 giorni per avere una risposta. Quindi quell'attraction lì diventa un tempo infinito e noi abbiamo cercato di fare qualcosa in questo senso. In particolare però, visto che l'attraction può riguardare appunto Facebook, è un business tendenzialmente consumer o si immagina sia consumer, l'attraction nel mondo B2B. Ovvero azienda più startup che fanno un bell'accordino commerciale, comincia una a fatturare e l'altra a pagare e pian piano gli investitori vedono fatturato, vedono clienti, vedono utenti e dicono ah bene stai funzionando. Ok? Il tema è quello. Startup come garantisi che lavora con un modello B2B o B2B2C. Ok? Quindi e che cosa abbiamo come modello? Non me ne è venuto a mente nessuno meglio di questo. Microsoft che è nata dal fatto che IBM ha comprato il sistema operativo di Microsoft, di Bill Gates, di MS-DOS e l'ha messo in tutti i PC e lì è diventato l'uomo più ricco del mondo. Prima di essere sostituito da quell'altro che schiavizza la gente ma dice che è al day one. No? Molto innovativo schiavizzare la gente. Questo signore qua ha fatto business, ha fatto la fortuna, ha messo su un'azienda sicuramente innovativa, magari con un software eccezionale, però grazie al fatto che ha trovato un'azienda che gli ha dato una commessa importante. Noi vorremmo fare tutti la fine di Bill Gates. Io non quella di Steve Jobs, ma quella di Bill Gates sì. Cosa significa Traction B2B? Significa tendenzialmente incrociare tre momenti, decidere, firmare e pagare. Ok? Significa che avere degli interlocutori che decidono se quello che gli stai proponendo ha in un tempo ragionevole, oggi sono circa questi i giorni per decidere, 365, la media per noi è 14 mesi, quindi ancora più di 365 giorni, 120 per firmare, 90 per pagare, 90 stiamo andando per quelli che pagano. Il manifesto nasce invece come stimolo a selezionare le aziende che vogliono lavorare con dei tempi rapidi, dei tempi compatibili con il fatto che noi start-up siamo sulle spese. Ok? Quindi se ci fai stare 365 giorni e aspettare che tu decidi, nel frattempo siamo falliti almeno un paio di volte. Oppure abbiamo dovuto fare tre round di finanziamento. Il risultato è che quando abbiamo lanciato questo manifesto tutti si sono resi conto che nell'ecosistema ci stanno un sacco di re che vanno in giro nudi, col pisello da fuori o quello che hanno da far vedere. Cioè un sacco di gente che parla di innovazione e che poi vai a vedere la fanno con dei tempi da lumaconi. Noi non ce l'abbiamo con questi signori, noi invece quello che ci teniamo è che si rendono conto che magari si vestano appropriatamente e che facciano il business più velocemente. E siamo qua per parlarne. In particolare abbiamo individuato nel manifesto che è visibile online delle guide, dei consigli e adesso li commentiamo insieme ai nostri relatori a cui è vietato raccontare quello che fate come abbiamo sentito per due ore. Cioè parliamo invece di quello che si potrebbe fare e se questa cosa può servire a qualcuno. Ok? Allora nel manifesto potete vederlo a 30303030-30.it online che è un documento aperto, chiunque può contribuire, chiunque lo può promuovere, chiunque lo può criticare, migliorare. Quello diavolo che è, abbiamo individuato degli elementi che sono dei consigli a tutti quei guru che ci fanno gli innovatori o che ci selezionano come start-upper rispetto a quello che noi start-upper reputiamo essere dei momenti importanti. Cioè tutti ci dicono cosa dobbiamo fare, stavolta siamo noi che diciamo a voi, alle aziende, oh fatemi santo piacere, fate queste cose in questa maniera. In particolare i punti che abbiamo proposto sono, li sintetizzo però si vedono, perimetro, obiettivi, informazioni, filtri, clausole, referenze, durate, esito, go live. Sono i dieci elementi che noi consideriamo portanti del processo di decisione. Firmare il referente, la fatturazione, l'accessione del credito e il pagamento, pagare, pagare e basta. Allora, che cosa significa? Nel manifesto l'hai spiegato un po' meglio. Sono dieci, nove consigli. Noi diciamo alle aziende, se volete essere veloci, volete lavorare con le start-up, cercate di applicare questi consigli. Tra questi consigli ci sta il fatto di definire esattamente con chi volete lavorare, quali sono i vostri obiettivi, quali informazioni avete bisogno per decidere, fatecelo sapere, quali sono i filtri, non abbiamo abbastanza capitale, non abbiamo abbastanza finanziamento, non siamo abbastanza giovani, non siamo abbastanza vecchi, diteci quel cazzo volete, ma fatecelo sapere subito, quali sono le clausole, non fatecele scoprire dopo, quando siamo, dopo due anni andiamo di fronte all'avvocato e ci troviamo che ci volete portare via all'azienda, chi è il referente, quanto tempo ci impiegate a decidere e diteci anche cosa avete deciso, minchia. Non è che ci voglia molto dire sì grazie, no, non ci interessa o cose di questo genere e soprattutto quando andremo a go live. Abbiamo fatto un survey, e poi vi lascio la parola, scusatemi, tra un po' di start-up e non, chiedendo che cosa ne pensano di questi punti e che cosa considerano il consiglio più importante. Ve le condivido così poi ne parliamo. Hanno risposto come al solito i portatori di innovazione, cioè quelli che portano, che fanno innovazione col culo degli altri, no? Perché ci sono quelli che lo fanno col culo proprio, che sono tipicamente gli start-up, vi piace il mio, ci sono quelli che scelgono il culo degli altri e quelli che invece portano il culo altrui, come al solito sono quelli che rispondono di più. Ma va bene, va bene, ok? A fronte di questo panel composto di 47 coraggiosi, è saltato fuori che il 51% considera la cosa più importante decidere in fretta, il 23% firmare velocemente e un 25% pagare velocemente. Sui dieci punti del decidere, quello che è considerato in assoluto il più importante è pubblicare in modo chiaro e inequivocabile quali sono le informazioni necessarie per prendere una decisione. Ve lo sareste aspettato? Non si capisce con che cazzo di criterio decidono queste aziende che fanno programmi di open innovation, di che cavolo di solito, non si capisce. O comunque chiunque voglia lavorare con una start-up, la prima cosa che ci viene da chiedergli è, ma voi con che cazzo di criterio decidete? Che volete sapere? Che vi serve? Cioè quante slide dobbiamo mandarvi? 200, 500, 4 case stores, non si capisce. Il secondo punto più importante è, ma ci volete dire che cazzo avete deciso? Ci volete dire che cazzo avete deciso? Noi abbiamo una pipeline con garantisi di 70 aziende, ma la maggior parte non ci dice un cazzo. Cioè dice, sì, stiamo valutando tra sei mesi il budget, la rinorganizzazione, forse l'anno prossimo, tra due anni. Boh, ma avete deciso o no? Boh, questo quindi sono i due punti principali che è emerso dal survey, molto significativo. Il terzo punto invece riguarda il tema della velocità della firma. La cosa più importante per la velocità della firma, questo lo posso intuire anch'io, è diteci chi cazzo ci porta la firma e il contratto. Perché, voglio dire, qui in azienda, c'è qui ci sono parlato prima un sacco di aziendone, quindi abbiamo anche un po', capire chi ti porta a firmare il contratto è altro che ago del pagliaio. Ok? Risultato, eccolo qua il nostro re, altro che rudo, un bel re funky. Ok, adesso lascio la parola ai nostri interlocutori, che sono tutti rappresentanti di aziende o comunque figure importanti. C'è gente che poi di fatto sta facendo qualcosa per le start-up. Enel mi hanno detto addirittura ha fatto fatturare 20 milioni di euro a delle start-up che segue, non quattro pricciole. Stefano fa di tutto per portarle a lavorare con le aziende, Banca Sella addirittura per riuscire a cambiare la dinamica della sua azienda ha costruito una costellazione di aziende che facilitano il rapporto sia con la banca che con altri soggetti. Ok, tu non hai fatto un cazzo, però lo devi dire. E poi c'è l'uomo invisibile, per noi start-up è l'uomo invisibile, è l'unico che ci fa fare business. Lui è il country manager di Festina Italia, cioè la classica realtà italiana che vende e basta, non può fare nulla se non chiede permesso agli spagnoli. Giusto? Ok. Bene, questo in due incontri. Primo incontro gli abbiamo spiegato che cos'era. La seconda cosa, ha preparato la lettera da portare agli spagnoli, la terza volta ci ha telefonato, ok, ha avuto l'ok, si comincia. Guardatelo, eh. Uno così, cioè, non lo si trova da nessuna parte negli eventi delle start-up. Da nessuna parte, infatti tu sei mai andato ad un evento per start-up? No, 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 di fatti, grazie per l'opportunità. Mi ha molto stupito quando Andrea mi ha chiamato perché mi ha detto, guarda, vorremmo facessi un intervento durante questo lavoro, 30-30-30, perché io ho detto, ma caspita, non conosco il vostro mondo, anzi, le prime volte che chiacchieravamo avevo anche difficoltà a capire i linguaggi con cui si parla di start-up e quant'altro. E mi ha detto, no, guarda, a me interessa che tu venga e portagli la tua esperienza, perché tra i vari manager che abbiamo incontrato sei stato quello che ci ha colpito di più per la velocità, nella presa delle decisioni e quant'altro. Allora, al primo acchito ho detto, vado e il mio intervento durerà un secondo perché risponderò, sono fatto così. Poi in effetti ho riflettuto e vorrei portare questa esperienza soprattutto ai giovani, ma anche ai manager che sono in certe posizioni, magari in strutture molto più grandi di quella che gestisco io in Italia. Effettivamente mi sono accorto che oggi la mia capacità decisionale rispetto a quando avevo 30 anni è completamente cambiata. Quindi ho riflettuto su quali fossero i metodi che ho applicato su di me per poter arrivare velocemente a delle decisioni. E mi sono messo qualche, tra l'altro è venuto fuori un acronimo che è la regola del martedì, poi te la darò da mettere sul manifesto, adesso non ve la sto a dire. Diciamo che comunque, magari dirò cose banali in alcuni casi, ma la prima cosa che deve fare un manager per essere veloce nelle decisioni è assumersi le responsabilità di prenderle. Sembra una cosa banale, ma non lo è, nel senso che assumersi la responsabilità non significa andare allo sbaraglio, significa sapere quali sono i limiti delle proprie capacità decisionali, ma anche capire l'oltre se verrà accettato o meno, cioè è inutile che io blocchi un processo se sono quasi certo che mi arriverà l'avallo successivamente, basta essere chiaro con lo start-upper dicendo che secondo me si farà e mi espongo già io in una certa situazione, perché so che poi in fase di trattativa con magari l'headquarter me la porto a casa. La seconda cosa che ho verificato è la capacità di delega. Si ha un po' la tendenza a crearsi il proprio giardinetto e poi soprattutto su situazioni positive a gestirselo completamente da solo. Invece un metodo che ho adottato è quello di magari prendere la decisione e poi passare e condividere completamente tutti gli aspetti ai miei collaboratori. Questo permette, ed è questo un altro motivo per cui si deve essere veloci, di mettere in piedi più attività contemporaneamente. È chiaro che tutte queste cose che sto dicendo le devi fare contemporaneamente. Se io metto in piedi più attività, se non delego rischio di rallentare i processi, se non mi assumo le responsabilità rischio di rallentare i processi. Quindi c'è stato anche un episodio carino, se ti ricordi Andrea. A un certo punto sono stato io a chiamare loro e dire allora chiudiamo o no, perché ho altre cose da fare e vorrei fare questa cosa. Nel momento in cui poi ci siamo visti per questa famosa seconda volta, ho delegato a delle mie persone. È chiaro che poi dietro ci sono sempre io, ma come in questi giorni dove abbiamo fatto un'operazione assieme e non ho potuto presenziare io personalmente, non ho avuto nessun problema a mandare uno dei miei a farmi da vece, perché comunque era in grado di gestire completamente la cosa. Le altre cose sono molteplici, ci vuole metodo. Io giro, sono molto tecnologico, sono quello che lavora su un iPhone, adesso ho capito che non sei contento, devo prendere un Samsung su un iPhone o su mail a orari improbabili, poi però giro con un blocco dove come metodo mi sono segnato tutte le cose che devo fare, mano a mano che le faccio le cancello, se giro pagina riscrivo, sembra una cazzata ma non lo è, riscrivo quelle che non ho finito, alla terza volta che le vedo mi costringo a fare questa cosa. Questo permette di essere veramente veloci nelle attività e se sei veloce nelle attività, sei veloce anche nel prendere le decisioni. Quindi quando mi ha chiamato la prima volta, anzi nemmeno mi ha chiamato, mi ha contattato su LinkedIn, quindi LinkedIn serve Carmela Magno, gli ho detto vediamoci, ci siamo visti e io penso che nel giro di un paio di mesi, ma un paio di mesi perché c'era da interfacciarsi anche con l'headquarter, abbiamo portato a termine l'operazione e adesso la stiamo facendo. E non è l'unica startup con cui hai lavorato, ne ha altre due per dire. Adesso lascio una seconda parola a Stefano perché deve andare via. Che vuoi dire? So che non sei autorizzato a parlare ufficialmente, ma solo personalmente, che non puoi mangiare. No, giusto? Però a titolo personale, di qualcosa. A titolo personale dico che questa iniziativa del manifesto, appena mi è stata raccontata, l'ho ritenuta importante perché va a sensibilizzare un lato che è poco comunicato. Il rischio effettivamente che ha una startup nel momento in cui si allungano i processi decisionali e per anche arrivare fino in fondo al pagamento, la liquidità, il rischio che ha la startup è grosso. Le aziende incumbent che sono abituati a lavorare con sub fornitori in un gioco che è un gioco che ormai si è strutturato da anni, nel senso, sì, all'inizio entro scontando molto, poi ti faccio prigioniero e nelle change request, nelle change release rientro. Insomma, questo gioco ha sviluppato capacità da un lato delle aziende di avere un processo di acquisti sufficientemente capace poi di far pagare al fornitore il progetto e dall'altra parte il fornitore meccanismi di prigionia. Insomma, è un gioco che in aziende strutturate ha ormai tanta competenza ed è difficile per una startup entrare e non finirne stritolato. Quindi io ho apprezzato, apprezzo questa iniziativa perché sensibilizza un principio fondamentale. Dentro la startup ci sono pochissime persone, oggi Augusto ce l'ha fatto vedere bene, due o tre persone che si giocano alla loro capacità professionale ma anche le loro risorse economiche e corrono il rischio se finite intrappolati in un gioco del genere, ad esempio un modello opaco di esporre chi è il decisore, un modello opaco nel andare a definire quali sono le clausole che riscopri solo magari alla fine di due o tre mesi in cui stai già lavorando, stai già facendo delle attività e poi ti accorgi che per sigrare il contratto manca un pezzo che è una clausola irricevibile. Questo mette realmente a rischio delle persone che si stanno giocando tanto e quindi da questo punto di vista l'ho apprezzato. Ho detto guarda vengo, non ti porto, perché ovviamente il bicchiere o la medaglia è anche dall'altra parte, l'azienda corre dei rischi lavorando con una startup che è molto focalizzata sul suo prodotto, è molto brava a fare pitch ma delle volte il prodotto non c'è ancora e quindi fa anche dell'overselling o delle volte così focalizzata che non riesce a fare un pivot e entrare a servire esattamente l'azienda e l'azienda è abituata con i sub fornitori o i system integrator, avere batterie di persone che sono lì a fare servizi comprati a giorno uomo e quindi a costruire abiti su misura. Ci sono dei rischi e ci sono anche degli strumenti oggi che si iniziano a mettere a punto come il fast track, che ho citato, io sono molto contento che c'è Enel perché ritengo oggi in Italia tra i casi che ho studiato un caso scuola e credo che sia importante capire come Enel che è uscita dal tranello del sub fornitore a basso costo di mano d'opera e invece a valutare questo potenziale enorme che c'è nelle stand up che è un peccato, buttiamo via del valore per il sistema paese. Mi è piaciuto quando poi Augusto ha detto nella fase finale io ho cercato di essere molto incisivo ha detto attenzione che se rimaniamo in questo circolo vizioso l'incambient vede la start up come sub fornitore di mano d'opera a basso valore e quindi quasi dumping di prezzi. Dall'altra parte la start up si trova ad essere spaventata nell'approcciare un mercato B2B e avere tempi lunghi a fallire buttiamo via un potenziale enorme quindi anche un impatto sociale che andiamo a perdere. L'ultima cosa che volevo dire è citare tre casi concreti in PoliHub ce ne sono molte io da quando sono dal 2013 amministratore fine 2013 amministratore delegato del PoliHub ogni anno ho un caso di una start up che rimane intrappolata in questo giochetto e finisce quindi ho proprio casi concreti in cui vedo i ragazzi e umanamente proprio mi spiace perché hanno questa mancanza di esperienza si trovano di fronte a delle cinture nere con molta esperienza che sono capaci se vogliono con un atteggiamento predatorio nel fare via via perdere di valore agli asset della società e poi poter prendere il piatto intero. Queste cose sono realmente un peccato le ho viste devo dire che personalmente anche qua lo dico personalmente spendo proprio nel mio tempo e vi dicevo quei 28 casi che abbiamo di corporate che sono venute dentro l'azienda perché portano la persona che si guarda negli occhi a quel punto invece la relazione diventa virtuosa quindi unirsi a un ecosistema vedere cosa fanno poi gli start up per davvero e non considerarli come aziende sufficientemente carrozzate e consolidate molto utile perché poi con la relazione umana aver capito chi è il decisore chi mette la firma e magari anche assieme coprogettare un altro pezzo di prodotto e anche scrivere una clausola di esclusiva magari per un certo periodo quindi per sei mesi lavori solo per me con questa esclusiva un contratto ha portato invece a casi in cui ci sono stati degli investimenti questa è proprio esperienza di vita vissuto quindi ho trovato proprio la possibilità da circolo vizioso a farlo muovere a circolo virtuoso con poche poche semplici interventi questo manifesto secondo me va nella giusta direzione non è che soffro di protagonismo ma volevo prendere spunto da una cosa che ha detto il dottor Mainetti non ho avuto modo di dirla prima nei processi decisionali che prendiamo noi ho instaurato da un paio d'anni quelli che chiamo i piani commerciali perché ha detto una cosa molto giusta prima Augusto Coppola che a un certo punto quando c'è una start up bisogna togliere la parte iniziale perché quando metti uno che posso essere io che ha un know-how importante vede magari mille paletti per non farla partire ci vuole una pulizia allora io prendo i miei li porto in un posto a meno gli do dei compiti tra cui uno libero e poi mi propongono una serie di operazioni da fare magari sull'anno o nel medio termine dove poi magari intervengo io se decido che sia ottimale e la voglio raccontare adesso dopo che ha parlato lei perché l'anno scorso due ragazze molto giovani mi hanno detto di fare una collaborazione con Politecnico e con Polidesign e quindi abbiamo iniziato un workshop con Polidesign dove abbiamo riunito una quarantina di ragazzi che stanno lavorando per noi su un progetto di preparare un paio di orologi con quadranti cinturi eccetera senza cinturini senza stravolgere il concetto dell'orologio abbiamo dato due dei nostri orologi ma che vadano bene ai millennials una delle mie preoccupazioni è che oggi i ragazzi di 20 e 30 anni si guardano l'ora sullo smartphone piuttosto che in altra maniera quindi secondo me per un'azienda come la nostra che esiste da più di 100 e passa anni per farne altri 100 avete detto prima quanto durano adesso bisogna che oggi i ventenni di oggi i trentenni di oggi comprino anche a 40 e 50 anni quindi il concetto è venuto da dei giovani poi sono stato io a intervenire ma oggi stiamo lavorando con voi fondamentalmente col gruppo del Politecnico dove mi sono accorto che le domande che hanno fatto questi ragazzi la velocità con cui arrivano ad ottenere risposte che per noi magari non ci facciamo nemmeno la domanda è eccezionale quindi sono d'accordissimo con quello che stavi dicendo alla nostra ospite la parola è stata citata un sacco di volte l'ho presentata malissimo chiedo ancora scusa grazie per l'invito innanzitutto condividiamo il fatto che una grande azienda non può pensare di lavorare con una start up come fa con i grandi fornitori sarà che abbiamo iniziato a lavorare in ottica innovazione open innovation già da diversi anni quindi già da un paio d'anni noi abbiamo coinvolto attivamente il procurement quindi abbiamo fatto quello che è il processo di fast track menzionato ci siamo però resi conto ancora prima di quello quanto è importante la parte decisionale anche per quello si è strutturati e come menzionavi si chiede già subito alla start up si prepara prima degli incontri preliminari quello che servirà i possibili casi d'uso abbiamo fatto uno scouting alla fine dell'anno scorso abbiamo portato le reti ad incontrare una serie di società italiane di start up a marzo già sono in approvazione i progetti con quattro società e partiamo quindi ecco questo ha previsto un periodo temporale veramente di un mese tra l'incontro con la start up e la decisione di partire con un progetto quindi abbiamo questo fast track che diciamo il problema della firma in realtà come grande azienda non la vediamo dal tipo della qualifica e poi dalla contrattualistica vera e propria sulla contrattualistica a fine mese dovremmo rilasciare un template unico semplificato proprio per quelli che sono i testing e i POC per importi diciamo limitati sotto una certa soglia e questo va proprio incontro a poterlo condividere subito con la start up così si vedono già quelle che sono le clausole si è ridotto al minimo si sono lasciate ovviamente quelle che sono normative di legge che non possono essere tolte anche in quest'ottica si facilita quello che è il pagamento perché questo nuovo template diciamo deroga quelle che sono le clausole standard di pagamento a 60 giorni e si possono prevedere pagamenti a 30-15 giorni e anche pagamenti anticipati quindi si sta anche lavorando ad esempio sempre in quest'ottica di accorciare i tempi su quello che è il processo di scambio documentale tramite InfoCert in collaborazione con le camere di commercio sulle tecnologie di trust digitale quindi sono tutti i step che stiamo cercando di fare si può si potrà accorciare sempre di più l'importante secondo me è monitorare l'attività cercare di intervenire per mettere in campo azioni che possano ridurre i tempi Stefano devi andare scusate grazie ciao grazie allora il mio si sente? si sente? sì allora il concetto del manifesto è in realtà è da una guida a tutti quelli che non sono strutturati o che non hanno ciorra che è passato dalle forche caudine del fornitore ed è passato di là per dire vorrei parlare con le start up come mi conviene approcciarlo di fatto quello che ci sta raccontando Enel è in linea esattamente con quello che chiediamo noi trasparenza identificare la persona che dovrà dare il feedback i tempi anticipare già il contratto pagamenti anticipati sì diciamo di fatto formalmente poi si condividono quelle che sono gli aspetti trattati in realtà i dettagli sta nel come si dice il diavolo sta nei dettagli ed è proprio questo non è voluto venire qua un rappresentante di un programma di opinion molto importante di qua di là che avevano pubblicato contratti che sono passati alla storia come a dir poco vessatori adesso facciamo parlare chi facciamo parlare lui Luca che è stato allora bisogna scusate ti racconto una cosa personale conosco Banca Sella dai tempi in cui Pietro Sella navegeva con i pantalonicini corti ed era uno dei cento cugini non era ancora l'amministratore delegato poteva diventarlo ed effettivamente stiamo parlando degli anni 90 80 quando Banca Sella ha cominciato a fare le prime sperimentazioni sui gateway di pagamento e incidentalmente ho partecipato a quei progetti lì da allora Banca Sella ha fatto molta strada ed era ho chiesto a Pietro appunto portaci la testimonianza cioè di che cosa significa partendo da una realtà Banca Sella stiamo parlando di una banca storica dopo Monte dei Paschi di Siena siamo 1886 siamo lì ecco stiamo parlando di un'azienda con una tradizione una storia una gestione familiare eppure adesso è comunque uno dei protagonisti diciamo del mondo delle start up dell'innovazione e a Luca ho chiesto cos'altro si può fare non tanto per finanziare le start up ma uno che vuole diventare fornitore di Banca Sella qual è il percorso Fast Track Banca Sella esiste un percorso o voi dite no guarda meglio se stai diciamo nei satelliti buongiorno a tutti grazie dell'invito come diceva Andrea ci conosciamo da un po' di tempo poi essendomi simpatico ho aderito subito perché c'era la possibilità di focalizzarci prendendo esempio da manifesto abbiamo condiviso la tematica soprattutto della velocità devo dire che la velocità dal mio punto di vista si applica teoricamente come banca in un'ottica di customer centricity in tutti gli ambiti quindi va ben al di là ovviamente di quello che è il tema e il rapporto poi con le start-up un sì o un no su una linea di credito la si dovrebbe dare più o meno velocemente in trasparenza anche a una corporate o a un cliente privato che chiede un mutuo questo come premessa generale peraltro era opportuno e quindi secondo me è un buon passaggio quello che rappresentiamo oggi iniziare a stimolare un po' il dibattito sul tema della velocità e dei modelli che stanno alla base per essere veloci soprattutto nel match intradomanda offerta tu hai accennato prima io non voglio qua bruciare l'intervento a fare la marchetta però è ovvio che poi le start-up puoi supportarle dal mio punto di vista come banca quindi come intermediario anche finanziario sotto tanti profili che noi assolutamente perseguiamo c'è il tema equity c'è il tema di avere degli spazi dedicati abbiamo aperto dei sellalab ne apriremo uno entro l'anno a Roma che sono degli spazi che non sono solo di co-working ma di consulenza che vanno dalla start-up quindi dal seed fino alla parte di consulenza alla PMI perché poi speriamo che ovviamente si abbia successo c'è il tema degli investimenti diretti o indiretti e quindi del CVC tornando però a bomba su quello che è la chiacchierata di questa nostra di questa oretta insieme il manifesto per me si declina in due modi il primo è quello che hai citato tu e che io però che vedo diciamo limitato per il cliente che è la start-up verso bancasella perché perché bancasella è comunque una realtà piccola e in generale dal punto di vista di rapporto diciamo di fornitura ha un perimetro in qualche modo limitato abbiamo dei casi noi abbiamo lavorato per fare un esempio pratico l'anno scorso perché siamo stati i primi a lanciare il voice banking in Italia quindi l'interazione con la parte di IoT con i device mobili per quanto riguarda il riconoscimento cliente poter fare la parte di dispositiva con una start-up ai tempi non era nostra partecipata quindi non avevamo in quel momento interessenze era una start-up della Puglia Vidia Soft si chiama che era venuta in contatto con il nostro centro di innovazione sul territorio Sera Lab di Lecce ci era piaciuta come in realtà c'è stata dopo la possibilità non solo di supportarla verso la parte dei business stream esterni quindi verso altri fornitori ma anche di farlo lavorare internamente quindi quel progetto l'abbiamo gestito totalmente in open innovation e abbiamo verificato come poter scaricare a terra un punto di successo per entrambi dicevo il secondo punto secondo me anche interessante e qui vedo bene il tema di darci dei format e quindi come diceva l'amica di Enel probabilmente delle tematiche anche di template o frame potrebbero aiutare nel dare ordine reciprocamente e chiarezza dicevo la tematica importante secondo me è sulla parte di matching anche con i clienti corporate per cui il ruolo che adesso vogliamo perseguire sempre di più anche come soggetto finanziario è quello di mettere in contatto a livello di CRM quella che è l'offerta della filiera delle start-up con la domanda che può arrivare dai clienti corporate della banca allora è chiaro che qua la relazione si può fare in un'ottica di NAN molto più interessante con la banca che si fa garante tra virgoletti di definire che tempi di risposta service level agreement e pezzetti che rendano chiaro subito qual è il perimetro della domanda e qual è il perimetro dell'offerta mi pare non solo una buona idea ma lo faremo adesso lasciamo la parola io sono spero di poter rientrare in quei programmi devo fare tra l'altro una marchetta io stavolta perché stiamo partecipando per la prima volta come start-up a un programma di open innovation fatta da Monte dei Paschi di Siena e sono rimasto stupito dal fatto che l'obiettivo del progetto è in poche settimane capire se la cosa è fattibile e arrivare a una decisione per noi è stata una sorpresa incredibile perché effettivamente sta andando in questa maniera e se avessimo avuto la certezza che in altri programmi ci potesse raggiungere risultati del genere avremmo sicuramente partecipato ho chiesto ad Andrea di venire perché lui ha scritto un articolo sul Sole 24 Ore ispirandosi ai temi del manifesto mettendo in evidenza quale può essere il valore di pagare i fornitori prima del mercato una cosa che da noi che vogliamo essere pagati teniamo molto ma lui l'ha messo dal punto di vista del commercialista cioè di quello che in genere dice ma pagalo i 60 giorni dopo tanto così migliora il flusso la cassa aumenta e invece ha trovato qualcuno che gli ha detto no col cazzo è una scelta sbagliata e raccontalo allora banalmente insomma noi abbiamo sempre da imparare dagli imprenditori di fondo quindi il povero commercialista o fa da spugna o altrimenti rischi in un mondo che cambia molto velocemente di dare informazioni sbagliate arriva da me un cliente cliente molto conosciuto anche nel mondo così dell'innovazione dell'internet presente fin dai tempi ha la sua startup in realtà non startup ma perché era già esistente quando è nata la normativa eccetera arriva da me sta investendo molto in un progetto di ricerca e si trova per la prima volta un po' in difficoltà finanziaria allora viene da me un po' preoccupato per cercare di risolvere il problema e io vabbè uso la tecnica classica no io ho detto guarda la società è solida i soci sono belli andiamo a parlare 5 minuti con le banche che riusciamo a gestire la cosa e poi tu hai sempre pagato in maniera estremamente puntuale tutti i tuoi partner della ricerca insomma anche se al posti pagare a 30 giorni paghi per una volta 60 chi se ne frega superiamo questo momento di come posso dire di difficoltà finanziaria nel giro di 2 o 3 mesi rientriamo tranquillamente e vedrai che la gestisci e lui mi ha guardato in maniera molto seria ripeto questo qua un amico quindi ha cercato anche di non sgridarmi in maniera in maniera severa mi ha guardato in maniera molto seria dicendo guarda Andrea io ho questo problema noi lavoriamo oggi con i migliori sul mercato e i miei competitor sono aziende di primo nome quindi Google altri io ovviamente non riesco a pagarli lo stesso prezzo dei miei competitor quindi l'unica cosa che posso fare io è essere puntuale nei pagamenti perché queste persone contano su di me per coprire i costi fissi perché sanno che queste grandi aziende tendono a dimenticarsi un po' il momento del pagamento loro convinti che due o tre mesi in più o in meno alla fine non facciano grossa differenza l'affitto dei locali questi li pagano con i soldi che gli do io quindi per me è strategico per lavorare con i migliori fare un ottimo prodotto poter essere garante del fatto che questi soldi arrivano mi hanno fatto un po' di salti mortali le banche ci hanno dato retta hanno continuato a pagare correttamente questa azienda è stata venduta l'anno scorso ed è stata venduta proprio grazie alla ricerca che è stata fatta e al team che lui era riuscito a costruire all'interno di questa di questa operazione tutto questo per dire che cosa scusate secondo me c'è un problema di fondo che abbiamo lasciato un pochettino galleggiare però per essere un po' provocatori proviamo a tirarlo fuori allora fino all'altro ieri le start up erano uno simpatico giochino per molte aziende per rifarsi un po' la virginità fatemi dire no? era uno simpatico strumento di marketing le start up stesse dall'altra parte non erano dei gran portatori di innovazione perché non sempre ci sono stati c'è stato un gran circo mediatico e via oggi secondo me in realtà l'operazione è diversa oggi tutto il sistema è un po' più pronto a diventare un sistema maturo la cosa bella che io ho visto in questo manifesto è un po' la presa di responsabilità da parte di tutti cioè in un mondo come quello italiano che manca completamente di concorrenza quindi l'innovazione alla fin fine non premia più di tanto perché in qualche modo il mercato è ragionevolmente stabile tendi sempre a salvare l'azienda che deve fallire quindi quella innovativa non potrà mai subentrare per andare quanto il mercato rischi di non avere le idee chiare tu che chiedi informazioni io ragiono soprattutto sulle medie imprese poi sulle grandi magari ci sono logiche diverse però secondo me non così diverse rischi di non avere tu esattamente le idee chiare su cosa cerchi e dall'altra parte la start up non ha esattamente le idee chiare di cosa vuol dire parlare con un'azienda tutto questo il dire chiarisciti prima cioè il manifesto è visto a favore delle start up ovviamente raccontami prima cosa vuoi però secondo me se la giriamo dal punto di vista io ve lo dico dalla parte della media impresa magari già della grande prova a chiarirti prima tu cosa vuoi per te è importante riuscire a prendere le start up migliori innovazione migliore mentre parlavate del progetto Enel io stavo pensando noi stiamo seguendo un'azienda che oggi sta corteggiando il primo grande contratto nazionale con una grossa azienda e la stiamo tirando sono diversi mesi tutto questo porta a un problema uno di finanziamenti due di potenziale aumenti di capitale o di diluzioni tre di ritardo dell'entrata del famoso fondo che deve arrivare a mettere i soldi veri ma non lo fai entrare perché se aspetti diciamo quel contratto in mano riesci a farlo entrare in maniera diversa riesci ad avere una così una moneta di scambio più forte e mentre sentivo Enel dicevo cavolo se io fossi una start up probabilmente e fossi ragionevolmente strutturata beh forse la prima persona da cui vado per vendere il prodotto siete voi no perché alla fin fine mi fate un binario poi ne proverò con altri venti però inizio a dire beh lì forse in qualche modo può essere un partner privilegiato ecco se noi iniziamo ad avere l'innovazione l'innovazione diventa uno strumento di concorrenza vera forse questo strumento non è un strumento per fare un favore alle start up ma diventa uno strumento per poter scegliere prima quello che il mercato offre come innovazione quindi lo vedo sempre dalla parte dell'azienda sono solo contento infatti l'obiettivo sarebbe teoricamente quello cioè di permettere alle aziende di dichiararsi di farsi conoscere oggi abbiamo fatto conoscere Festina cioè Paolo Galimberti però chi lo conosce cioè mica che lo trovi in giro per i progetti i programmi di Open Innovation e come aziende come lui come multi manager come lui non hanno tempo di fare queste cose ma potrebbero dichiararsi e rendersi disponibili proprio magari tramite il manifesto